Quanto pesano i pregiudizi nelle motivazioni di alcuni reati contro la persona e come vengono valutati dalla legge? Se ne è discusso a Palazzo San Giacomo in un convegno sui crimini d'odio organizzato da Rete Lenford, avvocatura nazionale per i diritti LGBT e patrocinato dal Comune di Napoli. Noi siamo stati molto contenti di accogliere quest'anno la Rete Lenford. La Rete Lenford è una molto forte che si occupa soprattutto di difendere i diritti delle persone più fragili, delle persone LGBT e quest'anno più che mai il loro lavoro è importante perché attraversiamo il momento in cui i diritti essenziali sono messi in discussione. La Rete Lenford, ha spiegato la Presidente Miriam Camilleri, prende il nome dalla vicenda del giovane avvocato giamaicano Lenford Harvey che nel 2005 nel corso di una rapina fu l'unico a essere ucciso in quanto omosessuale. Il trattamento delle minoranze misura la civiltà di una nazione, più viene rispettato lo stato di diritto, più le minoranze vengono rispettate, più i diritti delle minoranze sono considerati dalla maggioranza, senza che questo crei l'impressione per la maggioranza di essere sotto assedio o della maggioranza di sentirsi discriminata, più si progredisce nei diritti civili e questo è sicuramente un bene. Il professor Matteo Winkler, Università HEC di Parigi, ha proposto un confronto fra gli strumenti giuridici contro le discriminazioni negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, mentre il professor Mark Walters, Università del Sussex, ha vagliato il possibile ruolo della giustizia riparativa per debolire alla radice le ragioni dei reati basati sulla discriminazione. Le persone omosessuali hanno sempre usato la libertà di espressione per far valere il proprio diritto all'esistenza, il proprio diritto a esistere come persone, mentre oggi vengono colpiti dalla libertà di espressione di altri per essere rimessi al loro posto, insomma quello che è il posto che queste persone sostengono, le persone omosessuali debbano avere nel mondo e anche in Italia si assiste alla nascita e al proliferare dei movimenti che utilizzano la libertà di espressione in realtà per colpire la legittima esistenza di persone omosessuali. In Italia i crimini d'odio trovano una parziale disciplina nelle norme del codice penale che riconoscono come aggravanti di reato i motivi di discriminazione raziale, etnica, nazionale o religiosa, ma non quelli legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Per noi è davvero importante la lotta per i diritti e questo è un tema sul quale bisogna concentrarsi e partire anche molto in prevenzione. Questa città è disponibile a conquistarsi i diritti e a lottare per i diritti di tutti e tutti anche quando la lotta per i diritti li fa perdere consenso politico, perché chi fa la lotta secondo il consenso politico non sta lottando per la libertà ma in realtà sta lottando per se stesso. Grazie e buona giornata a tutti.